Che c'è a mettere? Hai detto di mille? Chi fa un panino? Chi ci fa messo un panino? Guarda! La maionese! E poi? C'ho messo una maionese e no! Ma che trovo il nuvorno? Come ne chiamate la maionese? La maionese? La salsa? La salsa? Come? La russa non è chiamata! Non scusate la maionese! Come si chiama? Puntami che dico cavallo! No! Che dico cavallo si può spuntare! Perché? Mi piace! Che dico cavallo! Gostante! Che dico cavallo! Che dico cavallo! Ma non! Toca l'altro per lui! Tu non lo metti questo? No! non lo metto! Non lo metto! Che dico cavallo? No! Ma non! E' un corso giorno io ne ho invenendo Dove io ne ho i giorni E' un po' di Pagano E' un coop con il frango Dice... Si... Se non è questo dio Pagano e piggiamo Non è questo dio Ne ho i giorni E' un po' di Pagano E' un po' di Pagano Io ho ricevuto Pagano, ma ho ricevuto Se non fai... ho trovato un corpo soccolo, ho trovato cinque metri di stanza cinque metri di stanza hanno un corpo soccolo da fronte ebola perché per loro sono ricevuto si è disgraciato, a me ha dato un corpo soccolo perché i giovani non mi chiedono e io sono riusciti a fare i giovani, i giovani, i giovani ma scusate, perchè ti mette l'amiglia e io ho i giovani, quando mi lasci ho riusciti a fare amiglia, mi chiedono perché io sono i giovani e io sono i giovani, quando mi lasci l'amiglia, mi chiedono io ho trovato un corpo soccolo da volare via No, niente di più c'è. Saluta a tutto lo staff di Youtube e Facebook. Io non so come me ne chiamano. Saluta a tutto lo staff di Youtube e Facebook. Provaci al meradillo. Non lo so. Come in che? Saluto, saluto. Io ho staff di me. Io ho staff di me. Io ho staff di me. Ragazzi stavate riniscendo. Saluto a tutto lo staff di Youtube e Facebook. Saluto gli staff di Youtube di su. Oh, non bene bene. Guarda. Saluto a tutto lo staff di Youtube e Youtube. E vuoi? Guarda, l'ultimo. Come in che? Vai, vai. Come in che? Come in che? Saluto. Io ho staff di me. Non mi ricordo quale c'è Della come è? Ora! Voi raffreddare il ruolo Voi! 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 non si non c'è nessuno che fai